ma di che cosa abbiamo parlato? perché se mi erino andata qua di Trabasè? Dico, ma è proprio Nuk, eh! E' ladro, va che arriva! Ma io vengo qua con mio nipote qua niente, c'è in più una marea di animali, di cose si, se glielo chiedi mi sa di sì, perché hanno qua anche il pony e il coso si, si, basta che chiedi a loro poi di là c'è il manello, ma poi è bello perché sei fuori dal mondo poi c'è il torrente, il coso, dai balanconi sassi si diverte una cifra quando veniamo qua ma ce n'è in giro 5 o 6 vediamo uncolo migliorante non c'è il coso non c'è il coso e le corrispone non c'è il coso Grazie a tutti. Grazie a tutti.